è stata una sconfitta dura perché comunque venivamo da due partite vinte poi comunque perdere in casa per la prima volta non è stato bello però la squadra comunque abbiamo capito le cose che dobbiamo fare c'è il settimana abbiamo subito abbiamo lavorato bene per essere pronti per questa partita qualche lido ma la parte di domani allora rieti è una squadra comunque che che viene da un momento buono perché comunque hanno vinto due o tre parti di fila penso anche una una importante poi casa contro roma ecco una squadra buona comunque anche se nuova come squadra perché però ha un gruppo secondo me valido per questo campionato poi comunque ha due giocatori che possono fare la differenza due americani possono fare la differenza poi niente per noi sarà una partita molto importante comunque perché non possiamo fare scherzi due volte in casa poi ecco dobbiamo tornare subito in alto a classifica quindi sarà una partita bella combattuta e saremo pronti